Gli Stati Uniti hanno portato via le truppe dall'Afghanistan, ma i loro droni continuano a volare sul cielo di Kabul. Almeno questa è l'accusa del regime talebano che denuncia una violazione del proprio spazio aereo, delle leggi internazionali e anche degli accordi di Doha e minaccia reazioni. L'Emirato Islamico dunque fa la voce grossa per imporsi a livello internazionale, ma è sul fronte interno che presto potrebbe avere i suoi problemi peggiori. La Federazione Internazionale della Mezzaluna Rossa ha detto infatti che mai in 20 anni di guerra il sistema sanitario è stato così vicino al collasso totale. Il blocco degli aiuti internazionali dopo il 15 agosto, giorno in cui i talebani hanno preso il potere, ha provocato la chiusura di circa 2.500 strutture sanitarie, ha denunciato Alexander Mateo, direttore della Mezzaluna Rossa per l'Asia e il Pacifico, aggiungendo che 20.000 tra medici e infermieri hanno perso il lavoro e 7.000 sono donne. Nel paese ci sono mezzo milione di sfollati, persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case per colpa dei combattimenti e che ora non possono tornare. Altre 11 milioni di persone nelle zone rurali soffrono le conseguenze di una prolungata siccità nei mercati. I beni di prima necessità sono sempre più scarsi e il loro prezzo è sempre più alto. La benzina si può acquistare solo di contrabbando e c'è crisi di liquidità. Già prima dell'avvento dei talebani la metà della popolazione viveva grazie agli aiuti umanitari che arrivavano dall'estero. Per questo, denuncia la Mezzaluna Rossa, oggi l'Afghanistan è sull'orlo di una devastante crisi umanitaria.